è disponibile il volume processi innovativi per le performance individuali nell'APA frutto dell'esperienza del Formex realizzata con il progetto affidato dal dipartimento della funzione pubblica dal titolo partecipazione di cittadini ed utenti al processo di misurazione della performance organizzativa e valorizzazione della performance individuale come strumento di gestione delle risorse umane. Il volume propone un approccio orientato alla gestione strategica del personale dell'APA con un focus sulla valutazione della performance e sull'implementazione di interventi comportamentali mirati. Ascolta aviatori e scarica il volume. L'importanza delle scienze comportamentali nello studio per il miglioramento della performance nell'organizzazione sia nelle aziende private ma anche nella pubblica amministrazione è un tema, è un argomento che non è molto antico ma è abbastanza ricente chiaramente partendo dagli studi di Herbert Simon nel 1947. Cos'è che può fare un approccio di scienze comportamentali per migliorare la performance dell'organizzazione? Prima di tutto può andare a individuare quelli che possono essere errori, distorsioni, bias all'interno dei processi decisionali sia dei singoli membri della pubblica amministrazione sia del lavoro di gruppo che viene svolto all'interno della pubblica amministrazione o nel rapporto fra i vari dipartimenti. Secondo è cercare di capire come viene trattato l'errore all'interno della pubblica amministrazione se come un dato da punire o come un fattore di apprendimento. Terzo è il problema importante dell'approccio e del contributo all'innovazione dell'organizzazione nell'APA. Come il dipendente possa sentirsi in grado e stimolato a sviluppare analisi che possono migliorare le procedure all'interno della raffia stessa. In quarto luogo tutto il tema della cittadinanza organizzativa cioè quanto il dipendente della pubblica amministrazione riesca a fare quel miglio in più non definito dal suo contratto per aiutare colleghi per essere coscienzioso per avere un approccio di identità organizzativa per il miglioramento appunto della performance dell'organizzazione in cui lui va a lavorare. Su questo appunto il consiglio è di leggere questo interessante volume del Formes che analizza a livello sperimentale uno studio fatto che è durato due anni e mezzo proprio sui temi della cittadinanza organizzativa. Grazie. Il tema della valutazione oggi come oggi è sempre attuale. La direttiva del ministro Zangrillo di novembre 2023 ha riacceso la luce su alcuni temi rilevanti. Tra i principali si ricordano la valutazione multi feedback attraverso la quale il dirigente o le posizioni di responsabilità più in generale sono valutate anche dai collaboratori dai pari oltre che da soggetti esterni. Si parla poi di colloqui di feedback di colloqui formali almeno quattro all'anno e di colloqui informali e infine di calibration ovvero di quei momenti di uniformazione dei giudizi. Ecco un lavoro come quello che abbiamo fatto presso ICI o presso il MEF è assolutamente in linea con gli orientamenti del ministro e supporta i metodi e gli strumenti a cui punta la direttiva. In primis l'individuazione delle competenze e dei comportamenti ad essi associati e che quindi meglio le rappresentano da parte dei dipendenti stessi dell'organizzazione è un primo passo perché tutti possono avere in mente un terreno comune di osservazione prima e di valutazione poi. L'individuazione di comportamenti sia positivi che critici rappresenta un passaggio importante nella costruzione di sistemi di valutazione che valorizzino le competenze trasversali sia dei dirigenti che dei dipendenti. Inoltre il coinvolgimento dei protagonisti a tutti i livelli ha fatto sì che emergesse la cultura dell'organizzazione e che tutti si siano sentiti protagonisti del processo e partecipi del risultato raggiunto aumentando quindi il livello di accettazione dello strumento. Non mi resta quindi che augurarvi una buona lettura.